C'è stato dei dati di educazione, di partecipazione alla forza del lavoro, dei giovani sardi con un confronto molto ben fatto con la media italiana, le isole, il centro nord, il centro sud, nord e l'Europa. Allora io mi focalizzerei su quello, punto numero uno. Non mi pare che la Sardegna sia fuori media italiana di tanto, un po', ma non di tanto. Se la confronto con la classe statistica nella quale viene da sempre messa, cioè su delle isole, se volete possiamo passare 14 giorni a dibattere su perché, però credo che non sarebbe molto produttivo per nessuno di voi. Quindi prendiamola per quello che è, siccome tutti gli indicatori socio-economici di quel gruppo chiamato su delle isole da un secolo sono più o meno simili, forse non è del tutto irragionevole la classificazione. Allora, se tu la confronti, la grande differenza è con l'Europa, ma se uno facesse quella che si chiama analisi fattoriale e cercasse di capire quanta parte della differenza tra i risultati sardi e i risultati europei è dovuto ad essere in Italia, direi a naso. Faccio della nasometria, quelli più giovani di voi non si ricordano, non è che sia stata inventata, ma è stata inventata da un signore che era solo punto ministro del tesoro. Credo che sia quello che ha iniziato la carriera di Mario Draghi, con suo suo consigliere e poi divenne anche brevemente primo ministro. Credo che ora non sia più fra di noi, anche se non era così anziano, una tal goria democristiano piemontese degli anni 70 che inventò con dispreso degli accademici, come sempre è andato di moda fra i politici italiani, voi pensate che sia una moda nuova? No, una moda antica, è sempre stato così. Quando gli accademici danno fastidio il politico dice che conta più la pratica della grammatica, peccato che in media non abbia né pratica né grammatica, ma quella è un'altra storia. Allora dicevo, a nasometria la varianza è spiegata al 70% dell'essere interna, quindi focalizziamoci. Anzitutto la salda è una regione italiana e i problemi che ha su questa dimensione, partecipazione scolare, performance, risultati dei ragazzi sia ai più piccoli, sia a 16 anni, sia più tardi a post laurea, rispetto ai loro colleghi stranieri, nei vari test e anche nei vari test di alfabetismo di ritorno eccetera, sono del tutto simili. Lo stesso vale per i net, sì un po' in cima, però se tu guardi di nuovo, perché lo chiedevo se riesci a mostrare, se non l'ho visto male quando mi hai mandato quei grafici ieri sera, li ho guardati un po' al volo stamattina in aereo, siamo lì su delle isole la Sardegna, no? E su delle isole la Sardegna fa meglio del resto delle isole, no? Siccome la media, mi sbaglio o leggo male? Non sto leggendo male, no? Vedo isole 29, Sardegna 21, allora siccome le isole sono due, perché le altre non votano, cioè suppongo che c'è anche l'elba, non so se c'è l'elba dentro, faccio parte della scala, Pantalleria e Lampedusa, come la dovete aver donato, insomma su piccoline, no? Per quanti migranti ci siano, non credo facciano, tirano sulla media, allora con il 29, faccio un po' per rilassare l'atmosfera, deve essere una media pesata, 6 su 1.5, 7 su 4, punto 80 Sicilia più o meno, punto 2, punto 20 Sardegna, ok? E quindi, insomma, decisamente vuol dire che la Sicilia viaggia attorno al 32%, no? E voi viaggiate attorno al 21%. Quindi non vedo una grande specificità sarda di per sé, di per sé, vedo una regione nel gruppo medio-basso o basso se vuoi, dipende da come classifichi, degli indicatori socio-economici italiani, che si comporta come l'Italia e su tutte queste questioni, di nuovo chiamiamole complessivamente, di istruzione capitale umana e di giovani, sta male rispetto al resto d'Europa e in particolare, perché tu hai preso il medio europeo, se tu avessi preso lì Germania, Irlanda, top, mi rovino, Belgio, Olanda, la differenza sembra ancora maggiore, in quella media europea ci siamo anche noi, ultimamente vanno giustamente di moda fra gli economisti dei piccoli grafici in cui si mostra il tasso di crescita negli ultimi vent'anni del PIL per capita americano, no? Che va, va su, tranquillo, poi c'è il crollo, torna da 2008-2009 e poi riprende, e poi c'è quello dell'Europa Euro, Europa 28 con l'Italia che fa decisamente meno, e poi c'è quello dell'Europa Euro, Europa 28 senza Italia e boom, sembra uguale a quello americano, quindi lì c'è un problema nostro, riconosciamolo, non stiamo a focalizzarci, il primo invito che vorrei fare non stiamo a focalizzarci su una specificità sarda che francamente non sembra contare, non voglio essere polemico con gli altri, però sul tasso di partecipazione al liceo di abbandono, su quanto fai bene a 16 anni nei test Pisa o in Varsi, l'insularità, scusate, che diavolo c'è, no? Non è che conta, non mi pare che le difficoltà di andare a scuola dello studente, faccio oggi i conti proprio con Gianni in macchina, la percentuale di popolazione sarda che vive di fatto in aree urbani più o meno costiere, considerando Sassari anche come costiera, è nell'ordine del 70%, quindi il grosso delle statistiche viene determinato da persone che vivono in condizioni per quanto riguarda la frequenza scolastica, il tipo di programma, il tipo di professore, del tutto simile a quello dei ragazzi che lo fanno se non a Roma Latina, a Frosinone o a Ancona o a Reggio Emilia, magari quelli a Roma hanno qualche problema in più, i trasporti pubblici come è noto a Roma bruciano e quindi forse qualche volta se sei una corriera sbagliata arrivi a scuola in ritardo, è un po' scottato, però vabbè questo è così di nuovo battuta. Allora se posso fare un'osservazione, però i dati non ci sono e non ci avevo pensato, chiedo bene, avrei dovuto pensarci, la differenza che c'è è che la Sardegna è una regione autonoma e dà una serie di prerogative autonomie proprie nella gestione sia delle scuole di base sia nella locazione di certi fogli, ora noi sappiamo, però purtroppo l'unica cosa che ricordo, non ricordo i dettagli esatti di Friuli, allora la Val d'Aosta è uno scherzo diciamolo pubblicamente, la Val d'Aosta è uno strano rimasuglio che ci siamo presi dai Savoia, io se fossi il resto degli italiani regalerei la Val d'Aosta ai francesi e non gli chiederei nulla in cambio, sì lo so perdiamo il Monte Bianco ma chi se ne frega, ci potete andare a scegliere lo stesso, non abbiamo più il monte più alto d'Europa in Italia e sai cosa me ne importa a me, è un posto simpatico, carino, pieno di gente divertente fondamentalmente che non si sente e che sussidiamo a delle botte di spesa pubblica infinita, non si capisce bene perché e questo sono sicuro che adesso mi attirerà, siamo anche live su Youtube, mi attirerà di ossacchestrali, però o ben così o se non smettiamola di sussidiare i valdostani a dei livelli da ridere, è vero che sono pochi, non si vede tanto nel bilancio statale, però grido un po' vendetta al cospetto se non di Dio, quantomeno di Bodri, siamo lì che ce la prendiamo con quello che buttiamo via per i parlamentari, guardate che spendiamo molto di più per sussidiare i valdostani, non si capisce bene perché per una bella regione, ricca, piena di risorse, di grande tradizione, in mezzo all'Europa, con la Svizzera accanto, insomma vabbè, quindi la Val d'Osta non c'entra, ci sono poi il Friuli e più o meno la dimensione della Sardegna e quindi il confronto vero andrebbe fra le performance a via del Friuli e quella della Sardegna, poi ci sono gli outlier, la provincia di Bozzano e la provincia di Trento fanno meravigliosamente bene, in particolare su questi indicatori, lo fanno un po' su tutto, ormai la provincia di Bozzano è diventata la provincia più lica d'Italia e credetemi da uno che la frequenta regolarmente da oramai più di 50 anni, non è solo turismo, anzi il turismo è una piccola parte, andateci così vedrete che non è vero che è il turismo. E quindi il vero confronto va fatto tra Sardegna e Sicilia, e lì mi sembra apparente che la specificità sarda fa meglio, oppure Sardegna e Friuli che sono forse di dimensioni simili però in posizioni economiche molto diverse. Sì, effettivamente se uno confronta con il Friuli non hai l'impressione che l'autonomia o le opzioni che l'autonomia offre alla Sardegna siano state usate saggiamente rispetto al Friuli, però per riuscire a fare un'analisi specifica occorrerebbe conoscere bene dove sono le specificità politiche su questo. Io conosco male quella della Sardegna, decentemente quella del Friuli, che sono di origine veneta, un po' conosciamo, per variate ragioni. In Friuli non hanno fatto niente particolare, tanto per metterla chiaro. Le scuole in Friuli funzionano praticamente con le stesse regole, con gli stessi incentivi, con gli stessi programmi che in Veneto, in Lombardia, in Emilia Romagna e via andando. Quindi direi che non hanno fatto zip. Se qua è stato fatto qualcosa, e qui cedo di nuovo la parola a voi che lo conoscete meglio di me, forse mi sarebbe chiedere se tu hai fatto un po' un riferimento, ma era un po' vago, alle politiche dell'amministrazione Soru, io non ho ben capito, ho l'impressione che fosse ricostruire un po' di edificio, mi sbaglio. Ecco, magari partiamo da lì, se vogliamo focalizzarci su questo punto. Quali sono gli incentivi da dare, in questo senso? Allora, adesso mi vuoi far parlare di più del dovuto? Il problema è italiano, la domanda vera da farci è, perché un paese come l'Italia ha tassi di scolarità che sono quello che sono? Perché? Ha una percentuale di laureati nella forza lavoro che sta, non so più se sta diventando o è già diventata inferiore a quella della Turchia, ha dei tassi di abbandono della frequenza, sia delle scuole medie e superiori, c'è di quelle universitarie, che è l'assoluta prima fra i paesi di cui ho fatto. Quella è la domanda da farci, non sulla Sardegna per sé, io su questa dimensione, su questa specifica dimensione, non riesco a vedere nei dati stessi che tu hai presentato e nelle cose che ho guardato prima di qua, nulla di specificatamente sardo. Cioè l'immagine che a geografica ebbe il piacere tanti anni fa di conoscere Gavino Ledda perché era amico di una mia amica friulana, una signora che era vera. L'immagine è così, come dire, bucolica del Gavino, del pastore, non c'è neanche più e comunque se c'è, è un'irrilevanza statistica per i ragazzi sardi, quindi non descriviamo questa cosa, i ragazzi sardi non vanno a scuola, non vanno a fare gli ingegneri perché devono andare ad orso di mulo per 70 km sotto la neve e il freddo nell'unica università che è londana e poi devono pure nuotare fino a Genova e poi il papali picchia, non è così. I ragazzi sardi hanno due ottime università, avete il sistema di trasporti, per andare da Cagliari a Milano ci metti allo stesso tempo che per andare da Roma a Milano e ci sono abbondanti, io sono venuto qua già due volte quest'anno nel giro di 4 mesi da una città relativamente periferica in questa fase dell'anno perché il grande flusso turistico è calato, cioè Venezia e venire da Venezia a Cagliari a Venezia vuol dire relativamente, quindi non è quello il problema, i problemi dell'istruzione dei ragazzi sardi sono uguali a quelli dei problemi dell'istruzione dei ragazzi abruzzesi o marchigiani, io mi focalizzerei su quello se vogliamo parlare di questo, se vuoi ci spostiamo su qualcosa di più specificamente, per quello chiedevo che politiche sono state fatte, magari lì c'è qualcosa di specifico, ma sui dati che tu hai mostrato io non vedo nessuna ragione di dire la Sardegna in particolare, direi che la Sardegna è una regione italiana che fa come le altre regioni italiane e che è di dire la Sardegna in particolare. Grazie Michele. Grazie.